Oggi impareremo a fare la famosa salsa come fanno solo a Firenze. Poi vi prendete una tinozza in dove vi avete lavato cinci. Poi bisogna legare una boccettina d'acqua alla sistola, coso. E con le mani di sciacquare, vi tagliare i pomodori. Ma procediamo il procedimento tutto a norma di sicurezza. Come potete vedere la bombola di gas è stata messa lontana. Vedete, con le cantelle andiamo a scolare in questa cesta i pomodorini precedentemente ribolliti nell'acqua di Mugnone, coso. Ma ricordiamo che l'antica salsa alla Fiorentina viene fatta anche a Prat. Ecco, andiamo a ripassagnane. La passata, che bellezza, osso. Mosche, insetti, tutta l'aria aperta. E sempre, mi raccomando, un pantaloncini corti e cantelle. Ecco, mi raccomando, tutto questo procedimento va fatto esclusivamente senza guanti. E con carzoncini corti, in modo che tessi fuori i coglioni e tutti i metti in ginocchioni. Poi con la bricca voi prendete la salsa di pomodora e voi la mettete in questi palattoli di birra. E voi ne andate a tappare, osso. Una volta tappato la mano si ha a stringere, per vedere se li hanno chiusi. Mi raccomando, questo è un procedimento da fare esclusivamente in ciabatte. E lasciare i barattoli aperti all'aria per le due ore, in modo che i moscerini e le mosche le entri in dentro. Gli dà qui il saporino ambraco, speziao. Mi raccomando, per questo procedimento fatelo sempre all'aria aperta, in un piazzale, possibilmente in dove ci ha pisciato i cani prima. Puoi prendere un fusto dell'olio e voi ci buttare dentro le boccette di salsa di pomodora. Vedete? In modo che poi una volta ribollisce, li schiantano tutte dentro e si sente l'odore di salsa nell'aria e si sparge per tutta Firenza. Poi tu ci fai uno spaghettino, la pomorola acida, ci metti i basilici e tu lo mangi con un dito d'acqua dentro il piatto, lo spaghettino di pomodora accoso. E poi si ha tutta la sagra di botulino. E poi si fai uno spaghettino.